Lorenzo Palmeri, architetto, designer, musicista. Quando ero piccolo ero interessato a tantissime, tantissime, tantissime cose. Mi piaceva veramente tutto, credo. Alcune cose le rifiutavo, ovviamente, ma ero molto interessato all'arte, alla musica, a disegnare, ma mi piaceva anche l'italiano, mi piaceva anche la matematica, era un bel problema in un certo senso. Diciamo che a un certo punto ho capito che sarebbe stato interessante per me seguire le cose che mi facevano muovere la pancia, in qualche modo, che mi facevano vibrare un po' il cuore. Questa è stata un po' la via che io ho scelto, strada facendo. E oggi, col senno di poi, devo dire che è esattamente la cosa che mi sento di voler fare anche oggi, cioè seguire le cose che mi piacciono e mi interessano. Mi hanno sempre appassionato le figure capaci di unire le discipline. Qualche volta si è trattato di scienziati, altre volte di artisti. Unire le discipline, ai miei occhi, è qualcosa che si avvicina al sapore, al modo in cui io intendo il mondo, diciamo. Mi sembra che il mondo sia fatto senza barriere di disciplina, diciamo così. Nella mia vita le grandi differenze le hanno sempre fatti gli incontri, gli incontri con le persone. Anzi, se devo dire la verità, se dovessi scegliere la cosa che mi interessa di più nel mio lavoro, per esempio, o nella mia vita quotidiana, sono proprio gli incontri. Incontrare le persone ha sempre fatto per me la differenza, in tutti i sensi, delle volte lavorativa, delle volte umana. Poi, ovviamente, come tutti, ho dei punti cruciali che hanno cambiato le cose. E qui, appunto, posso citare un po' di persone, ma non è così importante, è più generalizzata questa cosa. Mi interessano gli incontri, tutti.